Ora bisogna fare attenzione ragazzi, perché qui ci sono parecchi lupi in questo Gio Metal Gear Solid. Beato te che guidi le slitte, Snake. Tu sei sempre un mascher. Faccio strada, seguimi Snake. Certo e ti seguo, Meryl. Ragazzi, ascoltate con attenzione il vostro amico Gabri Costa. Vi do un consiglio. Bisogna fare molta attenzione perché i lupi sono avvantaggiati al buio. Non solo riescono a vedere meglio, ma possono anche sfruttare il loro ottimo olfatto. Faremo meglio a usare il nostro visore notturno. Così, usando il visore notturno, scopriremo dove andiamo. Se un lupo vi vede, picchiatelo. Non picchiate mai il piccolo perché sennò chiama la mamma. I lupi possono anche mordervi. E posso solo dirvi che questi sono i lupi di Sniper Wolf. Di certo non troverete la lupa che allattava Romolo e Remo. Però i lupi si vedevano anche nel libro della giungla. Ora ascoltate che dice Meryl. Snake, che c'è che non va? Pensava che te la cavassi con i cani. Io non so cavarmela con i cani, Meryl. Scordatelo. Bene, se il video vi è piaciuto, condividetelo. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E ricordatevi che noi dobbiamo raggiungere al più presto la base sotterranea di manutenzione del Metal Gear. Grazie a tutti.